Salve a tutti e bentornati da una nuova puntata di Curiosità Viventi, la rubrica dove vi parlo di animali strani, di strani comportamenti, curiosità e usanze in cui gli animali e la natura sono i protagonisti. Andiamo subito al dunque. Oggi vi parlo di sorprendenti casi di insetti che si mimetizzano con le foglie secche. Le foglie sono tra i soggetti preferiti degli animali mimetici, come questa farfalla, la Callima inacus. La spettacolarità di questa specie sta nel rovescio delle ali, che riproducono esattamente delle foglie secche, dal colore alle venature. La libere del lato inferiore, unita all'insolita forma delle ali, fornisce uno dei casi più notevoli di mimetismo. La sua perfetta imitazione di una foglia ha fornita a questa farfalla anche il suo nome comune, farfalla foglia. Così, quando la Callima inacus è posata su un ramo con le ali in posizione verticale, è praticamente invisibile tra i fogliami. Questa specie è diffusa nell'India, nel Pakistan e nella Cina. Anche altri insetti riescono a mimetizzarsi con le foglie secche, come questa cavalletta della famiglia Tettigonide. Oltre alla forma, imita anche il colore e persino le venature di una foglia. L'insetto inoltre si allinea lungo il tronco, proprio come fanno le foglie. Come quasi tutte le cavallette, anche questa è vegetariana. Altro insetto che sfrutta questo mimetismo è una mantide, la Deroplastis truncata. Questa mantide è entrata talmente bene nella parte di vegetale che, se disturbata, oscilla lievemente come una foglia al primo soffio di vento. Quando invece si sente minacciata, si lascia cadere al suolo e rimane immobile, confondendosi in mezzo alle vere foglie secche. Così rane, scimi, uccelli e piccoli serpenti, i suoi principali predatori, rimangono a bocca asciutta. Prima di salutarvi, vorrei rendervi partecipi di un piccolo traguardo raggiunto qui sul canale YouTube di Entomologando. Da poco abbiamo raggiunto e superato i 100 iscritti. Di questo ringrazio tutti voi. Se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale. Inoltre, se volete, andate a cliccare mi piace sulla pagina Facebook di Entomologando e visitate il blog, di cui trovate tutti i link in descrizione. Vi ricordo gli appuntamenti per seguire Entomologando. Ogni mercoledì sul blog un nuovo posto, martedì sì o martedì no, poi sul canale un nuovo video. Un saluto da Ludovico Cataldi, alla prossima!